E intanto ci sono le parole del ministro dell'interno, la Morgese, che interviene su quanto accaduto a Siculiana. Siamo in provincia di Agrigento, dove un migrante è morto nel tentativo di fuggire dal centro di accoglienza. Il ministero dell'interno è impegnato quotidianamente per gestire in sicurezza una rete molto complessa di centri di accoglienza. Simili tragedie, dice la Morgese, come quella della morte del migrante investito da un'auto, non devono più ripetersi. Esprimo la mia vicinanza, formulo gli auguri di pronta guarigione ai tre poliziotti rimasti feriti durante il tentativo di fuga dal centro di accoglienza di Siculiana, appunto. Così ha aggiunto il ministro la Morgese. Ancora la cronaca, una donna.